Beh, tutte le volte, ma loro praticamente eravamo in giro sempre in macchina, io a un certo punto ho preso un camper, perché così quando giravo avevo anche il camerino, perché molte volte eravamo in posti tipo un campo sportivo e non c'era niente, cioè se volevi cambiarti, cambiavi in macchina, capito? Anche quando c'erano 50-100 persone, facevo lo stesso un casino, capito? Come se fossero mille. Una canzone preferita faccio fatica e individuo altra, posso dirti un disco, siamo solo noi, se ne dovesci scegliere. Siamo solo noi.